Non è stato un distacco indolore quello di docenti ed alunni del liceo artistico a Polloni dalla storica sede di Palazzo Marcolini, in centro a Fano, che ha ospitato la scuola dai primi del Novecento, per trasferirsi, dall'inizio di quest'anno scolastico, nella struttura di San Lazzaro, in Via Lecci, nell'ex sede dei Ragionieri. In quel palazzo in centro, che da solo trasuda di arte e cultura, dove illustri artisti hanno prestato la loro opera come docenti ed insegnanti, ci hanno lasciato un po' tutto il cuore e, nonostante il necessario distacco, non hanno affatto tagliato il cordone umbilicale, anzi, la dirigente scolastica, nell'occasione, pronunciando il suo discorso inaugurale, ha, come si dice, tirato per la giacca il sindaco di Fano, presente alla cerimonia, chiedendogli di sfruttare ancora, in futuro, quei locali così affascinanti di Palazzo Marcolini, per mostre o laboratori specifici. Avremo piacere di utilizzare, di mantenere la nostra presenza all'interno di Palazzo Marcolini, come spazio espositivo, aprire laboratori per la città, i ragazzi ci tengono, i docenti hanno desiderio di poterlo fare, quindi ci mettiamo a disposizione della città. Sicuramente questo nuovo edificio assumerà una connotazione nuova e diversa con la presenza all'interno dei ragazzi, è solo un mese che siamo qua, ma i ragazzi hanno già cominciato a posizionare le loro opere, a progettare come colorare, abbellire, lasciare, come ha detto una ragazza prima, un'impronta di sé all'interno di questo istituto. Presente, anche a dar maggior peso e significato al momento, il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Felisetti, la cerimonia sobria e coinvolgente è stata preceduta da una visita nei luminosissimi locali ed aule che ospitano i cinque indirizzi della scuola, arti figurative, design di arredamento, metalli, architettura ed ambiente e scenografia. A seguire poi il classico taglio del nastro, dopo del quale, sulle note di otto e mezzo di fellini, eseguite da un quartetto musicale, alcuni alunni hanno portato materialmente dentro la scuola gli elementi manufatti rappresentativi dei vari indirizzi della scuola, una struttura che però ha subito notevoli ammodernamenti e messe a norma per poter ospitare in sicurezza studenti e laboratori artistici, una scommessa vinta della provincia e dall'ufficio scolastico. Noi abbiamo fatto la nostra parte in collaborazione con l'amministrazione comunale, i soggetti coinvolti dall'ufficio istruzione scolastico sia provinciale che regionale, sia il servizio edilizia scolastica e servizio istruzione della provincia hanno reso possibile questo grande percorso, un percorso che si integra con le volontà della dirigenza scolastica, degli insegnanti, del personale ATA e penso che veramente possa rappresentare questa inaugurazione anche il giusto percorso di quattro anni vissuti da amministratore provinciale con pochissime risorse ma quando mancano le risorse la collaborazione fra istituzioni è fondamentali, qua si vede veramente come la collaborazione può portare risultati concreti.